Sono circa 40.000 le famiglie siciliane in lista d'attesa nelle graduatorie per l'emergenza abitativa. Tra queste tantissime occupano spazi pubblici in attesa dell'assegnazione della casa e adesso rischiano di essere colpite dalla circolare del titolare del Viminale Matteo Salvini che invita i prefetti agli sgombri degli spazi occupati. Stime raccolte comune per comune dall'Essunia, il sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari che adesso annuncia battaglia contro il provvedimento delle vicepremiere. Reo, secondo la segretaria regionale del sindacato Giussi Milazzo, di avere diramato una circolare assolutamente repressiva perché si limita a dire che intanto bisogna fare gli sgombri e soltanto successivamente ma non specifica in che modo occuparsi di quelli che hanno veramente bisogno. Un po' come l'ordinanza antibivacco del sindaco pogliese a Catania, la nuova linea politica sembra essere quella di nascondere innanzitutto il povero e la povertà e poi forse chissà anche occuparsene. Ma la circolare di Salvini non desta preoccupazione soltanto in chi ogni giorno si occupa di emergenza abitativa ma anche in chi lavora affinché uno spazio pubblico abbandonato possa diventare aperto e fruibile a tutti. E' un problema che non risparmia nemmeno la provincia di Ragusa, quello dell'occupazione abusiva degli alloggi popolare. I dati forniti dallo IACP e aggiornati al 31 dicembre 2017 ci dicono che i comuni maggiormente interessati dal fenomeno sono Modica, Scicli, Ragusa e Vittoria. A guidare la classifica è Scicli, con ben 84 mobili occupati abusivamente, seguono Modica con 52 e Ragusa con 44. Chiude Vittoria con 32 case i cui abitanti hanno una posizione da regolarizzare. Nell'arco di 3-4 anni i numeri sono stati dimezzati, passando da circa 400 alloggi occupati a poco più di 200 a livello provinciale. Ma con la finanziaria regionale da poco approvata dalla regione Sicilia è arrivata la sanatoria e i delicati equilibri potrebbero mutare il Parlamento regionale l'ha approvata all'unanimità. Senza alcun emendamento in precedenza, la normativa prevedeva la possibilità di sanare la posizione di coloro che avevano occupato una casa di edilizia pubblica prima del 31 dicembre 2001. Adesso le famiglie che hanno occupato prima del 31 dicembre 2017 e che hanno i requisiti di legge per l'inserimento nelle graduatorie di assegnazione potranno ora divenire assegnatari a tutti gli effetti, pagando con un piano rateale decennale gli importi arretrati. Grazie. Grazie. Grazie.